Alta l'attenzione anche per le imprese turistiche che si trovano a fare i conti con lo smisurato aumento delle utenze. Sono numeri allarmanti e preoccupanti che spaventano più delle conseguenze economiche della pandemia. Una condizione destinata ulteriormente a peggiorare considerando le previsioni di aumento dei prezzi già registrato nelle ultime bollette e soprattutto con la stangata sui prezzi del gas in vista dell'inverno. L'incremento o comunque la stagione estiva tra virgolette positiva da un punto di vista di flussi non può essere altrettanto valutata positiva rispetto invece ai conti economici che le aziende oggi si appresteranno ad analizzare. L'avevamo già preventivato. Questa situazione indescrivibilmente negativa e aggressiva già sta portando molti piccoli e medi imprenditori, attività produttive relative alla ristorazione, ai pubblici esercizi, a piccole aziende, anche medie aziende, nel nord addirittura anche grandi aziende stanno decidendo di interrompere la produzione, di chiudere in diversi casi le attività. La Federalberg in sinergia con le altre associazioni di categoria al lavoro per cercare di mitigare il più possibile una situazione che già oggi è diventata insostenibile per gli imprenditori del settore. Abbiamo iniziato a ragionare anche in termini nazionali sull'opportunità di creare dei gruppi di acquisto in concomitanza con le maggiori aziende che sul mercato già vendono energia da tempo. Cerchiamo di mantenere la calma, di fare una valutazione oggettiva e ovviamente la nostra struttura, così come lo è sempre stata, si rende disponibile in collaborazione anche con le altre realtà confederative affinché in questo momento riusciamo a prendere una decisione meno pesante di quelle che si potrebbero prendere con l'istinto. A preoccupare anche la possibilità che questa grave crisi delle aziende e del settore turistico possa lasciare spazio a interessi e soggetti poco leciti. C'è anche lo spauracchio ma oggettivamente abbastanza preoccupante dell'intrusione di realtà invece poco lecite che in un momento di difficoltà potrebbero incentivare attività di compravendite relativamente alle attività che si sviluppano sul territorio ecco, dobbiamo essere uniti, dobbiamo scegliere una soluzione nel modo più logico e più sostenibile possibile.